Anche se gli inquirenti sono convinti che sia di matrice mafiosa, proseguono le indagini per l'omicidio di Giuseppe Di Giacomo, 47 anni, freddato da colpi di pistola mentre vicino alla sua Smart in via Eugenio Lemiro all'angolo con via Corradino di Svevi a Palermo. Era stato arrestato nel 2008 nell'ambito dell'operazione antimafia Perseo ma era stato assolto nel gennaio del 2011. Di Giacomo era il fratello di un boss storico del mandamento di Porta Nuova Giovanni, condannato all'ergastolo per mafia e omicidio, considerato uomo di Pippo Calò. Di Giacomo era stato condannato per gli omicidi di Natale Tagliavia, trovato incaprettato il 18 settembre dell'81 e di Filippo Ficarra, fittima della Lupara Bianca nell'82. E' stato anche condannato per il tentativo di uccisione nel carcere uccardone del boss Gerlando Alberti Paccare, un esponente della vecchia guardia condannato a morte dalle cosche emergenti. Il suo nome, dopo le dichiarazioni del pentito Francesco Marino Mannoi, entrò anche nelle indagini per l'omicidio di Sebastiano Bosio, primario di chirurgia cardiovascolare del civico di Palermo, ucciso nell'81. La vittima era stata arrestata nell'ambito dell'operazione Perseo, come detto, ma venne assolta perché le intercettazioni che lo riguardavano furono dichiarate inutilizzabili per un vizio di forma. Secondo gli inquirenti di Giacomo, stava tentando di affermarsi come referente del clan di Porta Nuova. L'omicidio, di classico stampo mafioso, preoccupa molto gli investigatori. Sul luogo del delitto, il PM di turno, Francesco Grassi, sostituti Catarina Malagoli e Sergio De Monti se l'ha giunto Leonardo Agueci. Ieri di Giacomo è salito in macchina, forse dopo aver fatto una sosta al bar. Assieme a lui c'era il nipote. Uno scooter raffianca la Smart, taglia la strada di Giacomo che tenta in mano di sterzare, come dimostrerebbe la posizione delle ruote. Forse un Honda SH con a bordo due killer fanno fuoco contro entrambi i lati della Citycar. L'uomo scappa e così anche il nipote. A quel punto i killer esplodono altri colpi di pistola. Uno colpisce l'elunotto di una Fiat Punto parcheggiata. Di Giacomo viene raggiunto da un proiettile alla testa. La sua fuga finisce sul marciapiede.